Più di 200 musicisti, più di 40 spettacoli, tanta tanta musica, ma non solo, con forte festival. E allora ne parliamo subito con il presidente Domenico Di Giorgio. Le iniziative sono molteplici, sono già partite e proseguiranno ancora per molti giorni. Come cominciamo? Faremo un concerto d'apertura il venerdì, intorno alle 5 e mezza, in Piazza Saffi. E da lì inizierà una serie di eventi, che saranno concerti, concerti web, iniziative come presentazione di libri, DJ set. E il punto cruciale saranno poi dei concerti elettrici nel Giardino della Cittadella della Musica. Ma metteremo musica in tutte le piazze del centro, cioè Via Montegrappa, Piazza Saffi, Piazza Leandra, Piazza Calamatta, dove ci saranno anche le bande e ci saranno anche degli eventi collaterali, sia vicino alla Compagnia Portuale Roma, all'Enoteca Bajocco, al De Bon. Ci sarà musica in una grossa parte del centro storico, sempre ingresso libero, di tutti quanti i generi. Ci saranno queste tre giornate all'insegna della cultura a 360 gradi nella nostra città, dove verrà offerto non solo della musica di calibro nazionale e internazionale, ma anche presentazione di libri, diversi locali che aderiranno a queste iniziative culturali. E siamo assolutamente orgogliosi di tutto questo e vi invitiamo appunto a partecipare, a venire a vedere appunto cosa può offrire Cività Vecchia dal punto di vista culturale appunto. Per noi è importante davvero costruire dalla base la comunità, perciò abbiamo messo su anche un progetto di crowdfunding, quindi di finanziamento dalla base, in modo che tutti quelli che apprezzano questo tipo di iniziative possano contribuire direttamente. Siccome i progetti si fanno così, ci abbiamo messo anche dei premi, perché così chi vuole sostenere la causa ha anche qualcosa in cambio. Però la cosa importante davvero è poter dare un contributo, cioè poter far vedere che si tiene alla città a queste iniziative. Quindi per noi c'è un messaggio sociale che va di là dai soldi che potremmo raccogliere.